Cos'è una startup? Prima di scoprirlo capiamo la differenza fra startup e impresa standard. La startup ha come oggetto un progetto innovativo e scalabile, ovvero ha un potenziale di crescita in tutto il mondo. Queste caratteristiche non sono invece tipiche dell'impresa standard. Come si intraprende qualcosa? Nasce tutto da un'idea che svilupperemo in quattro punti. 1. Problema. 2. Comunicazione. 3. Incubazione. 4. Comunicazione e intrescambio. Individuare un problema e chiederci che problemi ho? Che problemi ha la nostra generazione? Nel mondo? Inquadrare un problema che risolva un bisogno. La conoscenza è la chiave per il successo. Incubare l'idea dentro di noi e farci aiutare delle altre persone. Saper comunicare è la fonte dei rapporti con le persone e un buon comunicatore lo fa al meglio. Beh, nella nostra scuola si può dare vita ad una startup. Da chi è partita l'iniziativa dell'incubatore a scuola? L'iniziativa è partita attraverso un patto di comunità, come l'amministrazione del comune di Sant'Arcangelo di Romagna, una fondazione che ci sostiene e un co-working che si chiama Zona Moca, quindi quattro attori di questo territorio. Ma che cos'è un incubatore? Un incubatore è un luogo, è uno spazio nel quale vengono accelerate delle idee, costituito da strumenti, ma costituito soprattutto da know-how per verificare se un'idea è fattibile, ha una possibilità economica e di mercato. E quali sono gli obiettivi che la scuola ha nei confronti dell'incubatore? L'incubatore è per noi un punto da avvenire, siamo un istituto tecnico commerciale e abbiamo tantissimi percorsi all'interno della scuola, una storica e simulimpresa, scupe in ambito cooperativo, junior achievement. Ci mancava veramente un luogo in cui le imprese potessero nascere davvero. C'è un processo, ecco, con l'aiuto di professori interni alla scuola e di professionisti esterni alla scuola i ragazzi impareranno a fare questo, sviluppare tutto questo processo. Da grandi idee derivano grandi responsabilità e il nostro progetto ci metterà alla prova.